Ciao ragazzi, dopo il successo del primo non poteva certo mancare il nuovo e bellissimo Kavedani Attack Compilation 2 Dopo una giornata difficilissima io e il Sensei decidiamo di affrontare l'ultimo spot a disposizione nel nostro percorso Ovviamente siccome stavamo cappottando miseramente proviamo l'ultima chance ed è stata quella di non portare il guadino con noi un po' sconsiderata e quindi come nel wrestling, don't try visit home Vi farete un terremato veramente maledetti proprio, che pesce infame Mi sto passo vedendo l'andazzo Dove a notti ce n'è tanti però Li vedi proprio che si vanno anche l'esca Guarda 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 Nooo, cos'è che grosso Oh ma no, ma cos'è Ma è una carpa, figa enorme Adesso qua No 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 Ma come fa a essere così grosso È giusto, è giusto, è giusto per quello che l'ho preso Ma cazzo è successo No 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 ma non è normale, così così No è troppo grosso, come fa? È modificato Madonna, cosa cazzo è grosso Madonna, non è una cosa È una cosa mostruosa Ma cosa cazzo è grosso Ma come Cosa cazzo è grosso Porca boia Aspetta Grazie Mamma mia che record questo qua Veramente enorme Mamma mia che mostro Visto che il guadino Non mi... Ahahahah E' mostruoso Mostruoso dai Puoi rilasciarlo C'è lì la pinzetta Mostro ma non è normale Ma che cosa di qua ma cosa mangiano? Pane marmellata Ah va Figa ragazzi Perché hai vietato l'acqua? Vieto Non lo so Ti devo solo ringraziare Guardiamo più bene il fattore Grande Eh? Eh? Ah Mi hai detto Chi lo prende l'altro qua al bagno Cazzo non scherzare No 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 Non scherzo mai su queste cose Che maiale che era Vabbè un porco Quella cosa lì Mamma mia Spettacolo Grazie Adesso si deve una mano salire Vieto è qui Tani ce l'ho Bellissimo Non è grosso Però tanta roba A popperino 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 Sì sì da Sì sì subito Bellissimo Giornata la mente proibitiva Col vento Ma Se sono a tempo Così Spettacolo Che bomba Che è anche questo Pazzesco Pazzesco Madonna Pazzesco Pazzesco Il Sì oh che c'è stato oh che bello è bello a bello per cavitanone dov'è guarda lì guarda che maiale isha ma Grazie a tutti. Grazie a tutti. Lo sapevo. Sì, eh? L'esca giusta, cazzo, lo sapevo. Che era quella giusta l'esca che ho preso. E quella che ho usato anche dal kayak che è micidiale. Oh, bello! Un bel porco questo, un bel porcone. Bello! 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 Che cragnate! Sono chiude da ste testate. Oh, che maiale questo! Porca boia! Zio! Vieni qua, corri! Sì, bisogno di una mano che questo è una foto per forza. Maiale! No, ma questo zio è una cosa... Cosa uscina? Quanto ciccione è questo, zio? Porco cane! Zio! Zio, corri, sono qua! Dio mio, sei grosso questo! Dio mio, sei obeso! Oh, bello!